Avvocato Cesare Rimini, lei si occupa di diritto di famiglia, l'estate favorisce le separazioni tra coniugi? L'estate, il periodo delle vacanze è un periodo di cesura, di cose nuove e tutte le cose un po' nuove, un po' fuori dal quotidiano, dall'ordinario, creano delle possibilità di confronti, consentono delle valutazioni, danno il tempo di pensarci su e tutto questo può naturalmente avere un'influenza sulla vita matrimoniale e sulle storie d'amore in genere, non è detto poi che solo le storie matrimoniali siano influenzate dalle vacanze. Insomma tutti gli avvocati che si occupano di queste cose sanno che alla ripresa dell'attività lavorativa fiocano le richieste di pareri e talora non si tratta solo di pareri ma si tratta proprio di inizio, di cause o di rotture comunque matrimoniali. Il sesso che parte ha nei divorzi? Nei divorzi pochissima parte perché i guai nascono al momento della separazione, il divorzio nelle rotture diciamo. Nelle rotture. Nelle rotture il sesso è una delle componenti soprattutto nei matrimoni di giovani laddove si inizia una vita insieme ci possono essere delle vere e proprie disfunzioni dell'armonia coniugale intima della vita sessuale che hanno un effetto determinante. Molto diverso è quando questi problemi insorgono più tardi e allora sono dei fenomeni di stanchezza che si innestano su questioni più profonde, più di carattere. In genere la colpa, diciamo così, è più dell'uomo o della donna? Ah qui non si può proprio avere una opinione. Non c'è un dato. Ogni storia, non credo che ci siano delle storie statistiche, il costume ha poi, devo dire, giustamente portato ad avvicinare le due posizioni, quella dell'uomo e quella della donna, a ragione per cui soprattutto nelle grandi città, negli ambienti industrializzati, perché non si può evidentemente fare un discorso generico applicabile a tutte le fasce della nostra lunga Italia, insomma lunghe in tutti i sensi. Esiste ancora la virtù delle campagne, come si diceva una volta? Ma io penso che non lo si potesse dire forse neanche una volta. Penso che ci siano appunto, come dicevo un istante fa, degli ambienti sociali, delle fasce sociali in cui per tradizione certi fenomeni vengono tenuti soffocati e ci siano delle altre fasce in cui questi fenomeni vengano alla luce con meno angosce, con meno problemi e perciò emergano. Quali sono le cose che rendono più intollerabile la vita in due? Il bisogno, la noia, l'abitudine, l'insofferenza? Ma io penso che all'inizio di ogni unione, come dicevo prima, di ogni unione in senso ampio, ci siano delle valenze, dei legami, dei ganci. Ci sono anche delle valenze, dei legami, dei ganci che si logorano e quando sono logorati allora viene fuori tutto quello che c'è nella domanda, cioè la noia, il fastidio, i problemi di ordine sessuale, tutto quanto. Quando manca quella base, quella radice che poteva esserci o poteva anche non esserci dall'inizio, comunque il fenomeno del logoramento secondo me è la vera causa. Dice Lee Master, perché questo è il dolore della vita, che per essere felici bisogna essere in due. Quando finisce una coppia, se ne forma necessariamente subito un'altra? Non è detto. Ecco, qui mi sentirei forse di fare una distinzione tra gli uomini e le donne. Nelle donne, così nel micro raggio della mia esperienza, è più facile che subentri un grande fenomeno di stanchezza. Io auguro sempre temporaneo, però è facile che subentri un periodo di vuoto, di desiderio di silenzio. Mentre negli uomini è più facile magari un riadattamento, sempre col beneficio di inventario che queste generalizzazioni impongono. Grazie. 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 Grazie.